Nell'ambito dell'operazione Ares 2021, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Imperia, è emerso il coinvolgimento nell'associazione diretta da esponenti delle famiglie De Marte e Joffre, originaria di seminare e collegata ad articolazioni di indrangata calabrese, anche di due soggetti che, all'epoca dei fatti, erano minorenni ed il relativo procedimento è stato pertanto trattato dalla Procura per i minorenni di Genova, che ha richiesto due ordinanze di custodia cautelaria in carcere per i due indagati, poi emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Genova. Dalle indagini svolte è emerso che gli arrestati, nonostante la giovane età, fossero inseriti con stabilità, ruoli ben precisi e posizioni di rilievo all'interno dell'associazione di cui conoscevano le finalità e i metodi riconducibili alle organizzazioni mafiose. È la prima volta che in Liguria emerge la diretta partecipazione di persone minorenni in fenomeni criminali associativi di tale caratura e si ritiene pertanto di interesse pubblico la diffusione della notizia, fatta salva la presunzione di innocenza delle persone sottoposte alle indagini preliminari, nonché la possibilità per le medesime di far valere, in ogni fase del procedimento, la propria estraneità ai reati per cui si procede.